Ciao a tutti carissimi utenti, oggi torneremo a parlare, perché già questo argomento è stato, devo dire, abbiamo fatto più video, è stato trattato in video precedentemente che ho fatto, che ho effettuato, torneremo a parlare di programmi o app per pulire i nostri pc e fra virgolette velocizzarli. Abbiamo già visto e vi ho detto quali sono i secondo me migliori programmi da andare a utilizzare e quali invece dobbiamo assolutamente scartare, quindi non installare nelle nostre macchine. Ricordo sempre che comunque non esiste nessun programma per velocizzare così per com'è il nostro computer, l'unica maniera per andare a velocizzare un computer è sia in maniera hardware, quindi andando ad agire sull'hard disk, quindi andando a sostituire un hard disk meccanico con un ssd o meglio ancora con un m2 e poi agire anche nelle ram. Quindi questo procedimento soltanto servirà a potenziare in maniera hardware, quindi a velocizzare il nostro computer. Via software invece l'unico metodo per velocizzare il nostro computer è quello di andare a effettuare la vera e propria formattazione, perché sarà la base, quella più estrema, che darà più velocità al nostro computer, proprio perché verrà pulito il nostro computer, quindi sarà veloce come quando l'avete acquistata. Come altri programmi non esiste un programma che velocizza, sono alla fine quasi tutte a fesserie, avvertite un po' di velocità in più, proprio perché magari vi elimina quei file temporanei che non servono nel PC, però immediatamente già dopo 3-4 giorni il tempo è che si riempirà il computer di questi file e il computer riendrà di nuovo super lento, insomma o normale come deve andare un computer che comunque viene utilizzato, perché ricordiamoci che se i computer devono essere utilizzati e vengono utilizzati è normale che dopo un po' dall'inizializzazione, ovviamente il computer un po' fra virgolette rallenti. Quindi lasciando perdere questo e facendovi capire che non esiste programma per velocizzare, parleremo di nuovo oggi, ritorneremo nell'argomento di app per pulire e fra virgolette velocizzare il PC, proprio perché c'è l'uscita, c'è stata l'uscita insomma del Microsoft, del programmino integrato con Microsoft, quindi parliamo di installazioni su Windows 10 e Windows 11 del PC Manager, quindi di Windows PC Manager. Cosa è questo programma? E soprattutto è un programma rivisto, visto, già visto, insomma oserei dire sì, perché comunque è vero sì che è un programma che possiamo andare a reperire benissimamente nell'App Store di Microsoft, quindi se voi avete un account nel vostro Windows, potete andare a installare e scaricare questa applicazione. Cosa comprende questa applicazione? Prende e è paragonata a precise denti e possa essere un Ccleaner o Ccleaner, che è quello che comunque consiglio io, oppure per esempio anche un Privazer, per esempio. Quindi sono proprio app che tendono ad eliminare quei fastidiosi file temporanei, a pulire i cookie, a pulire insomma tutte quelle password, tutto quell'ingresso e memorizzazione nei siti internet. Quindi in sostanza fanno a livello di boost, quindi velocizzano in questo senso un po' il computer perché puliscono la cache, insomma sono programmi di pulizia. Quindi a chi è rivolto ovviamente questo programma? Questo diciamo è rivolto sempre a tutti, ma è un classico secondo me programma visto e già rivisto. Perché? Perché abbiamo detto che già esistono comunque altri programmi, anche se sono in maniera esterna, quindi andare a scaricare. Ovviamente dobbiamo anche scaricare il PC Manager, quindi quello di Windows. Quindi per come dobbiamo andare a scaricare e a prelevare il programma nell'App Store possiamo anche benissimamente andare a installare o il Ccleaner, per esempio o Privazer, che secondo me sono veramente veramente migliori di questo stesso programma di Windows. Io l'ho utilizzato, userei dire, in maniera anche di test, in fase test, in fase beta. Non ho visto insomma tutta questa miglioria nei computer dove l'ho installato, non ho visto chissà quale pulizia se non già che veniva effettuata benissimamente da altri programmi, soprattutto devo dire dal Privazer che tutt'ora diciamo è uno dei programmi che io consiglio come primare. Quindi chi non volesse mettere il Ccleaner per tutte queste dicerie che ci sono in giro può benissimamente consiglio sempre anche il Privazer perché è un ottimo programma di pulizia. Quindi detto tutto ciò come si fa intanto a testare per dire poi alla fine a fare un video se un programma di pulizia è davvero buono? Si fa testare utilizzando comunque almeno io nei test lo faccio così, il test lo eseguo in questa maniera, utilizzo molto il computer, vado nei siti internet, scarico delle fotografie, delle immagini, qualsiasi cosa e dopodichè che faccio? Ovviamente recupero un programma parente per recuperare, scusate il gioco di parole, direttamente file o direttamente tutto quello che si fa sul computer. Utilizzo il Ccleaner, pulisco, dopodichè prendo un programma per recuperare tutto ciò che si è fatto in quel frangente diciamo per quanto riguarda dati e vedo cosa riesco a recuperare nonostante la pulizia. Ecco magari recupererò qualche file e molti file no. Ecco da lì si capisce se il programma effettivamente ha cancellato quello che doveva cancellare oppure nonostante l'eliminazione ancora c'è qualche traccia di qualche file. Quindi facendo questo tipo di test si è visto che il Ccleaner si comporta bene, che il Privazer si comporta in maniera veramente ottima, veramente egregia, quindi un paletto in più a Ccleaner, perché proprio anche quando effettuiamo la pulizia per esempio col Privazer rimane impossibile andare a recuperare alcuni file proprio con programmi dedicati. Cosa che abbiamo fatto per esempio con questo PC Manager, quello di Windows e invece ancora qualche traccia c'è. Quindi comunque elimina ma non elimina effettivamente tutto. Ecco perché esce il test poi finale. Quindi perché consiglio un programma e perché non lo consiglio. Quindi come concludo il video alla fine? Dicendovi che se volete potete sempre provare. Io sono sempre per la prova perché sono comunque programmi gratuiti. Quindi non si va a provare un programma dove c'è un esborso di danaro. Quindi se poi a noi non piace il programma abbiamo perso quella somma di danaro equivalente all'acquisto, al costo del programma. In questo caso potete provarlo. Se vedete che non siete contenti di quello che fa, di come velocizza il computer fra virgolette, di quello che pulisce, potete sempre tenere e continuate ad utilizzare o il C-Cleaner per esempio o anche e o anche anzi meglio ancora il Privacer che sono veramente degli ottimi programmi. Che dirvi? Potete insomma fare il test di questo programma e mi fate sapere nei commenti come vi siete trovati e cosa ne pensate e soprattutto quale programma per pulizia voi utilizzate. Ciao a tutti e a presto.